Miss Italia, Regione Lazio e qui ovviamente sfileranno tantissime ragazze per contendersi alcuni premi che porteranno queste ragazze alla semifinale del concorso più bello d'Italia che è appunto Miss Italia. Miss Italia Miss Italia Miss Italia Miss Italia Chi sarà la Miss Lazio? Sarà Melania? Sarà Suami? Certo è che sarà bellissima! La Miss Lazio 2022 è... Suami Ciucci! Allora, lei è la vincitrice di questo concorso Miss Lazio, tu andrai alla semifinale e poi speriamo anche alla finale. Come ti chiami, quanti anni hai e da dove arrivi? Allora, io mi chiamo Suami Ciucci, ho 21 anni e sono nata e vivo a Roma. Sì, domani partiamo per la prefinale, ci alziamo prestissimo. Fano, a Fano, a Fano, a Fano, ci saranno tantissime ragazze, 200 ragazze, speriamo insomma che da questo numero, da questo grande numero, ecco tu faccia parte delle 20 ragazze. 20 ragazze più un Miss Roma, quindi totale 21 ragazze finaliste. Ma insomma, sei bellissima, complimenti, io quando ti ho visto ho detto, è lei la Miss Lazio. Grazie, grazie mille, è un onore. Grazie mille. Tu sei per lasciare il tuo titolo. Esattamente, sono ancora in carica però quindi per il momento sta andando tutto benissimo, è stato un percorso molto bello, astruso, ma che mi ha regalato veramente tante emozioni, tante avventure, mi ha fatto riscoprire tanti lati di me stessa e che veramente mi ha strutturata come donna. Senti, l'hai comprata la colla per attaccarla alla testa e non cedere la coroncina? No, questa cosa, vabbè, ancora no, però ci sta, ci sta, ho fatto il mio percorso e sono anche contenta di cederla perché è giusto che sia così.